Ciao, sono Camilla, dottoranda in Scienze Chimiche dell'Università degli Studi dell'Insubria ed ex studentessa del corso di laurea magistrale in chimica di questo Ateneo. Scegliere di studiare e di lavorare all'Insubria significa puntare ad un'ottima preparazione. Infatti, i docenti sono altamente qualificati ed estremamente disponibili nei confronti di noi studenti. L'Insubria vanta anche degli ottimi laboratori di ricerca e la possibilità di scegliere i corsi per personalizzare il curriculum in base alle proprie aspirazioni. Quindi, ricordati che anche da casa puoi scegliere il tuo futuro.